Bravo sei, in silenzio radio. Sul mondo di Call of Duty, vi ricordo Telegram, primo link in descrizione per le notizie temporali su COD e la mia collaborazione con i controller. Se volete regalare un controller completamente personalizzato anche con le levette posteriori, link in descrizione amante-bassocode per risparmiare tanti soldi come codice sconto. Partiamo subito. Ieri la Treyarch ha annunciato di aver risolto i problemi relativi ai progressi della mimetica diamante, quindi ora la mimetica dovrebbe essere sbloccata per tutti i giocatori che l'hanno ottenuta tramite le sfide delle armi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se ancora avete questi problemi. Ieri mi avete fatto un sacco di domande in merito al nuovo veicolo che arriverà all'interno di Coldwork. Attualmente non sarà integrato come ha confermato ieri la Treyarch all'interno di Warzone, chissà se arriverà con la nuova mappa nel 2021. Il nuovo veicolo si chiama Tactical Raft che verrà introdotto in corso di Season 1 e il dettaglio si tratta di una barca di piccole dimensioni dotata di un rapido movimento che consente di manovrare e trasportare velocemente il personale. Questo veicolo sarà molto probabilmente introdotto inizialmente sul lago presente sulla nuova mappa Sanatorium, mappa che però verrà aggiunta durante la Season 1 con la modalità Fireteam, quindi è stato specificato che non sarà presente già a lancio. I giocatori su Xbox invece si sono trovati nel negozio un nuovo pacchetto di personalizzazione, il Call of Duty League Launch Pack, apparso anche nei giorni passati tramite un altro bug. Il pacchetto non è attualmente disponibile ma viene elencato come gratuito. Ringraziamo Alec Orens per la segnalazione. Un'altra delle novità importanti che mi avete chiesto in queste ore è la Drop Kit, di cui vi faccio vedere anche l'immagine profilo di Treyarch che ha svelato ieri sera. Bene, questa modalità sarà introdotta nel corso della Season 1 e questo frenetico gioco presenta due squadre ciascuno in lizza per il controllo di una valigetta speciale ed estremamente importante. Il round inizia con due squadre che corrono verso la posizione della valigetta nucleare per tentare di raccoglierla. Chiunque prende la valigetta viene automaticamente equipaggiato con una potente pistola e il resto della squadra dovrà proteggerlo. Il team con una valigetta ottiene l'accesso ai codici di lancio e un punteggio in costante aumento. Se moriremo mentre la nostra squadra controlla la valigetta non verremo respawnato finché il nostro portatore non sarà eliminato e la valigetta sarà quindi caduta. Una volta raggiunti i 200 giocatori gli ordini di eseguire un attacco nucleare vengono confermati e il round poi viene vinto in modo altamente esplosivo. Quindi una sorta di cerchia e distruggi come vi ho detto nei giorni passati un po' più impegnativa. Ieri ha parlato anche il leaker nameless dopo la conferma del dataminer Big Mike che conferma anche lui l'arrivo del nuovo operatore SOP. Infinity Ward come vi ho detto più volte ha confermato l'arrivo di nuovi contenuti per il titolo senza però svelare data e contenuti. Tramite una nuova schermata che ha pubblicato la Treyarch vi posso far vedere che Black Ops Call the War e Warzone al momento non condivideranno i veicoli e in quanto tali le skin dei veicoli non verranno trasferite tra i giochi. Per tanti i livelli del battle pass che includono skin per i veicoli avranno una skin per Cold War e una skin per Warzone. Tutti gli altri contenuti del negozio invece saranno condivisi fra i due. Vi faccio vedere invece nuove immagini per quanto riguarda Isola della Rinascita estratte sempre dal trailer per avere una visione ancora migliore per quanto riguarda la nuova mappa. Potrete vedere che ci saranno anche passaggi sotterranei percorribili dai veicoli una novità molto importante rispetto ad Alcatraz. E poi vi faccio vedere anche nuove immagini in anteprima di Ride in arrivo da Black Ops 2 e disponibile nel multiplayer con la Season 1. Ecco invece la prima immagine che svela e conferma come da roadmap la nuova modalità nascondino propante che sarà disponibile nel gioco sempre con la Season 1. Ieri sera invece si sono attivati i doppi punti Arma e i doppi punti Esperienza e saranno attivi fino a mercoledì 16 dicembre alle ore 8, orario in cui poi partirà effettivamente la Season 1. Vi faccio vedere invece come abbiamo annunciato settimana scorsa la classe della settimana. Adesso la cominciamo a chiamare così, la classe più forte della settimana che utilizzo durante le mie live che mi chiedete spesso durante le mie dirette. In questo primo episodio vi farò vedere come configurare al meglio il Bruen con silenziatore monoblocco, la canna lunga da 26.8, ottica VLK, calcio anteriore da comando e caricatori da 60 colpi e come secondaria l'R9. A differenza di tanti che utilizzano il silenziatore monoblocco per fare ancora più danni va messo lo strozzatore, canna fusolata center, laser da 5, canna a corto raggio F-Tac Pro e colpi soffio del Draco. Con quest'arma ragazzi riuscirete veramente a togliere la gente dalle case, infatti vedrete una mia partita in essere con Bruen ed R9. Questo era tutto quello che vi volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty, noi ci vediamo dalle 9 in poi in live su Twitch, Telegram per tutte le notizie intemporali sul mondo di Call of Duty e appuntamento con me domani qui su YouTube ore 7 con un nuovo TGCAD. E' sceso eh, è sceso, è sceso, è sceso, è sceso, è sceso. Mamma mia, il Bruen, quanto cazzarola ancora fa male, bello de casa, parca miseria. Aspetta che faccio il giro, Shipment e tornerà 100% ragazzi. Dove cazzarola è andato? Aspetta che faccio il giro. Aspetta che faccio il giro. Fermi. Mamma mia, madonna, Furious e grazie per i bizze, full team. Porca troia Come l'onculati bene Godo Godo Mamma mia Delirio Grazie ragazzi Grazie grazie Mamma mia Che è su Comunque il Bruen Ancora fa veramente i danni L'R9 Non capisco Perché non lo vanno a nerfare Ragazzi È proprio un'arma Senza Non lo so È un'arma Non riesco a capirne il senso Ragazzi È troppo illegale Ci fa i team Senza anche Non avere le mani Veramente Follia pura Grazie Spartelli Grazie mille Eh lo so Marco Lo so C'avevo due e sei Qua hanno sparato Regà Qua sparino Qua sparino Sento sparare qua regà Stanno pure vicini Bella Six Mamma mia Porca miseria Sfida R9 Con R9 Ragazzi Incredibile Grazie mille Grazie mille nodes und in in Grazie a tutti.